La vita del profeta iscrivetevi, mi fulgono per la parola del Signore, figlio del mondo, profetizzate con i miei passori di Ucraini, profetizzate con i miei passori di Ucraini, profetizzate con i miei passori di Ucraini, così dice il Signore del Signore, guarda i passori di Ucraini, che passano a se stessi, i passori non vorrebbero cose lasciate a te, finuti in fine di anni, ammazzate a te e a te e a te, ma non passate a te. Grazie. 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 Grazie.